Ben trovati all'appuntamento con il TGOG News. Nessun accordo collusivo tra la parte imprenditoriale e quella politica. Questo in estrema sintesi il contenuto della deposizione spontanea del governatore della campagna Vincenzo De Luca intervenuto questa mattina in tribunale a Serno per rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo crescente nel quale l'ex sindaco di Salerno è imputato per falso ideologico, abuso d'ufficio e reati urbanistici in servizio. Probabilmente il giorno più atteso, sicuramente quello più pregno di significati nel processo crescente. Il giorno della deposizione spontanea in aula del governatore della campagna Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, all'epoca dei fatti oggetto del giudizio. De Luca, che non si era mai fatto sentire in qualità di test in tutti i processi che lo hanno riguardato, si parche termovalorizzatore, questa volta si è presentato regolarmente e puntualmente in aula per dire la sua nella contestatissima ed ormai annosa vicenda. La vicenda del complesso residenziale di Santa Teresa che porta la firma di Riccardo Bofil. Presenza, attesa ed annunciata quella di De Luca in quella, che potrebbe essere stata anche l'ultima udienza necessaria per completare le discussioni delle difese. Ebbene, De Luca ha parlato per un'ora abbondante, ricostruendo le tappe della vicenda, spiegando ai giudici la sua visione di riqualificazione urbana della città di Salerno, difendendo le sue scelte, respingendo qualsiasi ipotesi di reato. Una deposizione appassionata partecipe, convinta, quella dell'ex sindaco di Salerno, che ha fatto della riqualificazione di Santa Teresa una ragione di vita, dal netto di quelle che sono le contestazioni che sono mosse dall'accusa. Contestazioni che, in termini di pena, sono abbastanza pesanti, due anni e dieci mesi, secondo la richiesta. Nel corso della sua deposizione spontanea, De Luca ha detto in maniera chiara di non aver mai esercitato pressioni sulla sopraintendenza per il rilascio del nulla osta e di aver intrattenuto con gli imprenditori a giudicatari dell'appalto rapporti formali. De Luca, per esempio, ha anche ricostruito i termini di una delle contestazioni mossegli dall'accusa, ovvero l'erogazione da parte della RCM Costruzioni di un contributo alla Salernitana, che all'epoca navigava in pessime acque e rischiava di disertare la finale play-off per la promozione in Serie B di Verona per assenza di liquidità secca e sferzante. La replica di De Luca, mica possa essere condannato per il reato di tifoseria Granata? Quasi in contemporanea alla presenza del governatore della campagna Vincenzo De Luca nelle aule del Tribunale di Salerno, al comune di Salerno, palazzo di città, accompagnati dall'onorevole Piero De Luca e dal segretario provinciale del PD Vincenzo Luciano, i giovani democratici del circolo di Salerno hanno incontrato il sindaco Enzo Napoli, gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza per consegnare loro tutte le proposte dei cittadini raccolte in occasione dell'iniziativa Proponi la tua idea per Salerno. Ascoltiamo. Innanzitutto devo dare atto ai giovani democratici di aver svolto un ruolo di cittadinanza attiva, di milizia democratica che indipendentemente dai colori e dalle simpatie è un ruolo importantissimo nella gestione della cosa pubblica. Ci arrivano delle proposte da giovani che si sono adoperati a raccoglierle in perfetta buona fede e con grande disponibilità democratica. Abbiamo il dovere morale, oltre che politico, di accoglierle e valutarle indipendentemente dai colori politici. I giovani democratici hanno dato prova in questa circostanza di avere una grande sensibilità non strumentale perché c'è anche un attivismo talvolta assolutamente strumentale e non significativo. Quindi loro hanno svolto questa funzione e ci hanno rassegnato una serie di indicazioni delle quali noi faremo tesoro. Afferiscono per gran parte ai problemi della manutenzione rispetto ai quali noi ci stiamo adoperando. I problemi della pulizia, voi starete notando in questi giorni un grande attivismo dell'amministrazione, addirittura da chi vi parla, per una lotta contro il degrado urbano messo in opera da alcuni mascalzoni che si comportano in un modo non degno di una civiltà. Sì, è un metodo che noi condividiamo in pieno, che abbiamo sposato, che abbiamo sostenuto e io ringrazio tutti i ragazzi dei giovani democratici perché hanno fatto un lavoro estremamente importante di contatto con le persone, con le famiglie, con i cittadini, con i quartieri per poter provare a raccogliere direttamente dalla voce degli interessati le problematiche che loro intendevano sottoporre in modo anonimo. Tante istanze rispondono a un po' delle difficoltà che noi già conosciamo sulle quali a livello locale, cittadino ma anche provinciale stiamo lavorando riguardo alla sicurezza, riguardo al verde pubblico, le manutenzioni, per cui siamo estremamente soddisfatti di un'iniziativa che dovremo ripetere e continuare a portare avanti anche alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva perché è un metodo di lavoro corretto parlare con i cittadini direttamente nei quartieri, essere vicini alla gente ed è un po' il nuovo corso che intendiamo portare avanti come Partito Democratico perché riteniamo fondamentale tornare tra la gente, nelle piazze, nei quartieri e non chiuderci in quattro mura per riflettere dei problemi che in realtà dobbiamo risolvere parlando con le persone e ascoltando direttamente dalle persone le difficoltà reali del Paese e delle nostre città. La cronaca, un giovane di Cava dei Tirreni è morto nella notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'autostrada una rocca secca in provincia di Frosinone, il 32enne Metelliano era alla guida di un furgone quando ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un tir fermo in una piazzola di sosta. L'impatto è stato molto violento, il mezzo su cui viaggiava il ragazzo è diventato un ammasso di lamieri alla base dello schianto, ci sarebbe un colpo di sonno o un malore improvviso che hanno fatto perdere al giovane 32enne di Cava dei Tirreni il controllo del furgone. Gli avvocati di Domenico di Elen sono pronti a presentare appello contro la sentenza di condanna emessa nei giorni scorsi nei confronti dell'attore accusato di omicidio stradale aggravato per aver travolto ed ucciso un anno fa sull'autostrada 2 del Mediterraneo la salernitana Ilaria di Lillo. Secondo i periti del giudice per udienza preliminare Piero Indennimeo il giovane era alla guida della sua auto in stato di alterazione per uso di cannabinoidi. La richiesta di revisione della condanna, ricordiamo la pena inflitta di Elen di 8 anni, è incentrata proprio sulla valutazione che il giudice per l'udienza preliminare ha fatto sulle perizie tecniche dei propri periti, Antonello Crisci, Ciro Dinunzio e Alessandro Lima. Cosa ci sia scritto nella relazione dei legali dell'attore resta al momento riservato. I termini per la presentazione dell'appello, comunque ricordiamo, scadono il prossimo 25 di luglio. Ancora cronaca, espulso un cittadino pakistano residente a Sarno. Gli agenti della sezione antiterrorismo della Digos di Salerno hanno dato così esecuzione ad un decreto di espulsione emesso lo scorso 17 ottobre dal Ministero dell'Interno nei confronti del 38enne già da tempo attenzionato dal personale della Digos. L'uomo è stato bloccato questa mattina all'aeroporto di Napoli Capodichino, non appena sbarcato dal volo Turkish Airlines proveniente da Istanbul. Il pakistano, residente del comune di Sarno, munito però di regolare permesso di soggiorno, è considerato una minaccia per la sicurezza dello Stato poiché è ritenuto capace di agevolare in vario modo organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali. È stato ritrovato nell'appobligio di Edi il cadavere di Pasquale Lettieri, il 19enne di Rofrano, annegato, ricorderete, nel mare di Palinuro mentre faceva il bagno nello specchio d'acqua antistante le saline. Il corpo del giovane è stato individuato dagli uomini della Capitaneria di Porto che lavoravano sul posto con i vigili del fuoco e la protezione civile. Vediamo. È stato ritrovato in mare nel pomeriggio di ieri il corpo del ventenne Pasquale Lettieri di Rofrano, annegato nel tardo pomeriggio di martedì scorso a largo della spiaggia libera delle saline mentre faceva il bagno in compagnia di un amico suo coetaneo tratto in salvo in estremis da un bagnino. Il cadavere è stato individuato a pochi metri dalla spiaggia, poco distante dal luogo dell'annegamento. Ad accorgersi del corpo alcuni bagnanti che hanno subito allertato la guardia costiera e vigili del fuoco. Le ricerche proseguite ininterrottamente in questi tre giorni hanno visto impegnati decine di militari e volontari, numerosi mezzi navali ed elicotteri di guardia costiera e vigili del fuoco. Il corpo del giovane è stato recuperato con un gommone dei vigili del fuoco e trasportato arriva. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata liberata per consentire la celebrazione dei funerali. Ancora cronaca estorsione ai danni del titolare di un bar. I carabinieri di Sala Consigna hanno così dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal Tribunale di Laco Negro nei confronti di due uomini, un 35enne di Sala Consigna ed un 41enne di Teggiano, poiché ritenuti responsabili tentata estorsione e tentata rapina ai danni di un bar di Sassano. Le indagini hanno consentito di ricostruire due episodi estorsivi avvenuti nella stessa giornata, nello scorso mese di giugno, ai danni del titolare del bar sassanese dove i due si erano recati per chiedere la somma di 200 euro. La prima volta intorno alla mezzanotte, la seconda nel tardo pomeriggio e al rifiuto, in entrambi le occasioni da parte del proprietario, gli stessi avevano minacciato e picchiato. Gli arrestati ora sono ai domiciliari sottoposti all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. È stata rovente a Cetara per 30 persone accusate di occupazione abusiva del demanio marittimo. Un'intensa operazione della Guardia Costiera nel porto di Cetara ha visto il sequestro di ben 23 box situate lungo il molo cetarese utilizzati anche come deposto di attrezzatura da pesca. Vediamo. È stata rovente per 30 persone accusate di occupazione abusiva del demanio marittimo. Una intensa operazione della Guardia Costiera nel porto di Cetara ha visto il sequestro di ben 23 box situati lungo il molo cetarese ed utilizzati anche come deposito di attrezzatura da pesca. La vicenda è stata scaturita dalla segnalazione di grosse chiazze oleose all'interno del bacino. I sequestri sono avvenuti al termine di un'intensa attività investigativa da parte di militari degli uffici locali marittimi di Cetara e Maiori, su delega della Procura della Repubblica di Salerno, che ha chiesto e successivamente ottenuto i sigilli sui box incriminati dopo aver controllato che gli strumenti ritrovati nei box venivano custoditi illegalmente dai pescatori cetaresi in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Gli investigatori hanno poi verificato che oltre all'autorizzazione concessa dal Comune, l'uso dei depositi doveva avere anche un nulla osta da parte del demanio marittimo e per questo motivo è scattata anche la denuncia nei confronti delle 30 persone coinvolte nella vicenda. Ci spostiamo ora sul fronte opposto, sull'altro vessante della provincia salernitana, in pratica dalla Divina Costiera al Cilento, pugno duro dell'amministrazione comunale di Agropoli, retta dalla sindaco Coppola contro la pratica molto diffusa dell'ombrellone selvaggio sugli arenili di Agropoli. Il blitz congiunto che ha visto all'opera Polizia Municipale e Guardia Costiera è scattato questa mattina all'anno. Pugno duro dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola contro la pratica dell'ombrellone selvaggio sugli arrenili agropolesi. Il blitz congiunto che ha visto all'opera la Polizia Municipale, la Guardia Costiera, l'Agropoli, Cilento Servizi e l'ufficio De Magno, è scattato questa mattina all'alba e ha portato al sequestro di 100 ombrelloni e 60 tra Sdraio e Lettini. Inoltre sono in corso i controlli agli stabilimenti balneari per verificare che siano tutti in regola con la metratura a loro data in concessione. Avevamo da tempo attenzionato le spiagge cittadine, spiega il sindaco Adamo Coppola, rispetto alla cattiva abitudine di lasciare gli ombrelloni piantati oltre il tramonto per prenotarsi un posto al sole per l'indomani. Una pratica vietata come ha risaputo e questa mattina abbiamo voluto ribadirlo. Il rispetto delle regole, dichiara l'assessore al porto ed emanio Eugenio Benevento, deve essere prioritario in un paese turistico. Per questo abbiamo chiesto che i controlli siano costanti al fine di arginare le cattive pratiche che vogliono tendere a rendere privati spazi di pubblica fruibilità. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno predisposto i controlli. Emergenza rifiuti a Pagani, i cumuli di immondizia si stanno accatastrando nelle strade senza che il personale addetto alla raccolta intervenga per la rimozione. Cresce la preoccupazione tra gli abitanti anche in considerazione delle alte temperature. Dopo il dissequestro dell'area all'interno del cantiere della Pagani Ambiente da parte del NOE di Salerno di un mese fa, è arrivata nei giorni scorsi anche la notifica di dissequestro dei circa 23 cassoni pieni di rifiuti presenti nell'area. Un dissequestro che arriva come in una manna dal cielo, visti i problemi dei giorni scorsi con la ricomparsa dei rifiuti in città dopo i problemi allo stir. A seguito degli incontri dei giorni scorsi tenuti sia a Salerno tra il primo cittadino Bottone e i vertici di ecoambiente, si è convenuto che i cassoni pieni di rifiuti saranno smaltiti poco alla volta nel giro di dieci giorni e sempre alla struttura di Battipaglia. Questo consentirà alla società che gestisce la raccolta in città di poter respirare e stoccare gli stessi all'interno dei cassoni quando lo stir avrà problemi. Una soluzione adottata non solo dal comune di Pagani ma da moltissimi comuni del Salernitano che come Pagani in questo periodo hanno avuto un forte rallentamento nel conferimento dei rifiuti allo stir. Intanto in città dopo i problemi dei giorni scorsi sembra si stia rientrando alla normalità. Rimossi rifiuti in gran parte del paese, il centro cittadino e le periferie sono state oggetto di una vera e propria opera di maquillage che ha consentito ai residenti della zona interessata di non risentire ex novo delle cause dell'emergenza che in questo periodo è aguita maggiormente vista le alte temperature del periodo che fanno aumentare gli olezzi nauseabendi dei rifiuti e se a questo si aggiungono anche la presenza di animali indesiderati come i topi il dato è tratto. Ma l'amministrazione Bottone anche in queste corsa ai ripari programmando una serie di interventi per la derattizzazione ed eliminare la presenza di insetti davvero fastidiosi per i prossimi giorni. In programma domenica 22 luglio l'evento Il Gigante della Campania. Escursionisti e appassionati arriveranno in vetta alla Monte Cervati, 1899 metri di altezza sul livello del mare per godersi lo spettacolo più alto della campagna. Vediamo. L'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni guidato dal dottor Tommaso Pellegrino e la Cantina delle Arti, il rifugio Cervati Casa Rosalia Riccardo d'Arco e la sottosezione CAI Montano Antilia Andrea Scagnano hanno organizzato per il 22 luglio il Gigante della Campania, evento che si svolge a 1899 metri sul livello del mare. Sulla vetta del Monte Cervati con la collaborazione dei comuni di Laurino, Monte San Giacomo, Piagine, Rofrano, Sanza, Sassano, Teggiano e Valle dell'Angelo, escursionisti appassionati, visitatori arriveranno in vetta per le ore 12 dai diversi punti di accesso della montagna dove troveranno lo spettacolo più alto della campagna, sulla vetta più alta della regione ed interamente gratuito. Faremo questa iniziativa a 1899 metri d'altezza, cioè sulla vetta più alta della regione campagna, noi abbiamo questo bel primato perché il Cervati ha la vetta più alta della campagna e chiaramente lì realizzeremo uno spettacolo teatrale, quindi un'iniziativa originale, particolare che mira a valorizzare il contesto naturalistico straordinario che noi abbiamo perché la vetta del Cervati è uno dei luoghi poco conosciuti, ma di grandissimo fascino e grazie a Enzo d'Arco, a Riccardo d'Arco, al CAI e a tante altre associazioni che collaborano per far conoscere dei luoghi belli del nostro territorio, realizzeremo domenica alle ore 12, quindi sul Monte Cervati, aspettiamo tutti perché ne vale veramente la pena, ad assistere a questo originale spettacolo teatrale che racconta e parla della storia di questo gigante della Campania, cioè il Monte Cervati. Questo spettacolo ci parlerà del sud, ci parlerà in particolare della Campania, ci parlerà in particolare ancora di più dei nostri territori, dei nostri magnifici territori e ancora di più in particolare del nostro idioma. Il nostro idioma, le nostre caratteristiche, le nostre tradizioni, nella nostra cultura tra una comunità e un'altra devono e possono diventare la forza di questo territorio a farci capire ancora di più che dobbiamo stare insieme. Abbiamo accolto con piacere l'invito del Presidente del Parco, Tommaso Pellerino, che insieme al CAI e i vari attori locali e l'amministrazione vuole promuovere sempre più la grande vetta del Parco Nazionale del Cilento, ma non solo, di quasi tutto il territorio regionale, il Monte Cervati. Il Tre Balpini pone molta attenzione sulla sicurezza, quindi noi cerchiamo di portare sempre, di far avvicinare sempre più persone alla montagna, ma di farle in sicurezza rispettando l'ambiente che si visita. Come Tre Balpini accompagneremo varie escursioni che partiranno dai vari comuni pedemontani per arrivare fin su in vetta, dove a mezzogiorno con la Cantina delle Arti si terrà questo spettacolo di errare il più alto della Campania, dopodiché un pranzo conviviale con gli amici dell'Arci Confraternita di Sansa, Madonna della Neve, Santuario Mariano, più alto del Cilento e insieme al Presidente Pellellino e ai vari attori cercheremo di fare una sinergia per valorizzare e tutelare sempre più il nostro territorio. Allora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Doppio appuntamento al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi alle ore 18 è in programma il film Luis e gli alieni. Alle ore 20 e alle ore 22 il film di Marco Ponti, Una vita spericolata. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedino è un festivo ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosanemetrio.it Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E' tempo di notizie meteo, la pubblicità e poi lo sport. A Reki Security Service, la tua sicurezza, il nostro impegno. Formazione, discrezionalità, professionalità. La nostra mission, efficienza e qualità. Professionisti nella sicurezza. A Reki Security Service, la nostra qualità per la tua sicurezza. A Reki Armystone, armeria dedicata. Militaria, armeria, soft air. Al tuo servizio per ogni esigenza. A Salerno, in via Benner 75. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparsi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. Siamo allo sport. Finalmente comincia a muoversi qualcosa di concreto, di importante nel mercato della Serenitana. Sono dati i profili di Cone del Frosinone ed Anderson del Bari, che potrebbe arrivare in Granata attraverso la Lazio. A Rivisondoli è arrivato finalmente Radunovic, centrale difensivo Perticone, a un passo. Intanto Colantuono sta per prolungare il suo accordo contrattuale. Facciamo il punto. Il giorno di Radunovic. Il rinnovo di Colantuono l'ha svolta nel giallo di Iallou, l'arrivo di Perticone. Al tempo. In giornata, Boris Radunovic dovrebbe finalmente arrivare in ritiro a Rivisondoli. Domani è previsto il primo allenamento agli ordini di Colantuono per il portiere di proprietà dell'Atalanta. Finalmente comincia a muoversi qualcosa sotto il sole. A partire dalla fiducia accordata dalla società Stefano Colantuono, che a breve firmerà il prolungamento del suo contratto fino al 2020. bonus play-off, benefit in caso di promozione, raddoppio dell'ingaggio in massima serie e premio salvezza in serie A. Fino ad arrivare a qualche rinforzo per puntellare almeno la difesa. Romano Perticone, infatti, classe 86, è ad un passo dall'ufficializzazione in Granata. Il difensore, svincolatosi dal Cesena, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno alla corte di Lotito e Mezzaroma. Si sblocca anche la vicenda, almeno dal punto di vista burocratico, relativa alla Minghiallo. L'attaccante gambiano pare sia riuscito ad ottenere il visto per rientrare in Italia dal suo paese, il Gambia. Grazie anche all'intervento della Salernitana resta invece una distanza di vedute sulla formula del passaggio in Granata del Colored di proprietà del Chievo Verona. Prestito con obbligo di riscatto in caso di A, come spinge la Salernitana, o trasferimento a titolo definitivo, come invece chiede l'entourage del giocatore. Nei prossimi giorni Yallo sarà nuovamente in Italia ed avrà un colloquio con Claudio Lotito in persona a Villa San Sebastiano. Il giocatore è fermo sulla sua posizione e potrebbe spuntarla. Il patron del Chievo Campedelli è in parola da tempo con Lotito. In caso di trasferimento a titolo definitivo di Yallo, nelle case del club Clevense andrebbero 1.250.000 euro. L'attaccante firmerà un triennale con opzione per il quarto anno a cifre vicine ai 250.000 euro a stagione. Stesso ingaggio, euro più euro o meno, in caso di prestito dal Chievo. Pare si sia messa finalmente la parola fine anche sulla telenovela del portiere Boris Radunovic. Infatti domani dovrebbe sostenere il primo allenamento con la Salernitana. Il numero 1 della nazionale Under 21 Serba era in ritiro con l'Atalanta, che aveva congelato il suo nuovo passaggio in Granata per via della paventata partenza del portiere Beriscia in direzione Lille in Francia. Intanto, nelle ultime ore, sono stati accostati due nomi nuovi alla Salernitana. Si tratta del cursore di fascia Anderson, svincolatosi dal Bari, e del centrocampista Coné del Frosinone. Nel primo caso, l'operazione potrebbe avere la benedizione della Lazio. Il club bianco-celeste, infatti, avrebbe messo le mani sul forte esterno destro di Avan Anderson, classe 95 olandese di origini giamaicane. L'ex Ajax arriverebbe a parametro zero. La Lazio ha pronto un pluriennale per poi mandarlo in prestito alla Salernitana per la prossima stagione agonistica. Discorso diverso per Coné, che ha mercato e tanto in Serie B. Su di lui c'è Lascoli su tutte. Ed è in pole position. La Salernitana sta provando ad inserirsi tra i tanti ostacoli. Però c'è anche l'ingaggio dell'Invoriano, che dopo la promozione è arrivato a 400 mila euro a stagione. Quinto giorno di ritiro a Rivisondoli per la truppa di Colantuono. La prima sgambata a Ranghi Misti svoltasi ieri. Ha confermato l'inserzione del tecnico di puntare sul 3-5-2. Anche ieri il 3-5-2 è stato il marchio di fabbrica della Salernitana che sta nascendo a Rivisondoli. Una difesa sistematicamente con tre centrali di ruolo e due cursori che faranno il lavoro doppio. La variante è il 3-4-1-2 con un trequartista alle spalle del tandem offensivo. Lavoro di scarico e di tattica. Questa mattina a Rivisondoli per la Salernitana dopo il test amichevole in famiglia di ieri pomeriggio. Il gruppo si è ritrovato al campo svolgendo una seduta di lavoro più leggera. Prima una fase di completo defaticamento in clausura. Poi lo staff di Colantuono ha aperto i cancelli per le consuete esercitazioni tattiche. Il treno della Granata ha puntato l'indice sui movimenti senza palla dei suoi uomini. Soprattutto in fase di non possesso, dividendo il gruppo in piccoli scaglioni. Da prima è toccato a Galeo Tafiore, Schiavi e Vitale, Pucino, Akpà, Signorelli e Altobelli e Sette, Bellomo e Bocalonna. Effettuare l'approfondimento tattico sul 3-5-2 naturalmente. Mentre De Sarlo, Cicerelli e Marchesi lavoravano sulla tecnica individuale con il match analyst Lombardo. Ed il resto della truppa effettuava esercizi di mobilità articolare con il preparatore atletico Bertini. Copia e incolla poi per i vari Mantovani, Gigliotti e Granata, Casasola, Oger, Palumbo, Mazzarani e Di Roberto, Rosina e Vuletic. Seduta di lavoro differenziata invece per Ea, che deve recuperare molto terreno perso dal punto di vista atletico. Il puntero della Lazio, giunto in prova alla corte di Colantuono, è stato affidato alle cure dell'altro preparatore, Filetti. Hanno marcato visita agli acciaccati Volpicelli, febbricitante, e Luca Castiglia, che ieri ha alzato a bandiera bianca durante la sgambata in famiglia, per via di una contrattura muscolare alla coscia sinistra. L'ex Provercelli è stato affidato alle mani dei massaggiatori, un infortunio comunque che non sembra preoccupare più di tanto lo staff sanitario. Ora la Paganese comincia a prendere forma, la Paganese, il DS Accardi, ha messo a segno un colpo importante per il centrocampo di mister Fusco. In azzurro stellato arriva Gianluca Musacci. Comincia ad avere una certa fisionomia la nuova Paganese, targata Luca Fusco. Da ieri è un nuovo calciatore della Paganese, infatti Gianluca Musacci, 31 anni, nativo di Viareggio. Il forte regista, cresciuto calcisticamente nelle file dell'Empoli, viene mandato in prestito in Serie C1 nell'estate del 2007 alla Massese, per poi essere richiamato alla base nella sessione invernale di calcio mercato. Fa il suo esordio in Serie A il 19 marzo del 2008 contro la Juventus, collezionando poi una seconda presenza il 30 marzo contro la Sampdoria. Dalla stagione seguente fa parte dei titolari dell'Empoli in Serie B, poi un continuo peregrinare in giro per l'Italia. Empoli, Parma, Padova, Flosinone, Catania e Messina e lo scorso anno a Viterbo, dove ha collezionato 14 presenze. Per lui contratto biennale. Un rinforzo che sicuramente dà la ulteriore esperienza ad una squadra, che per lunghi tratti sarà giovane, ma non priva di quella qualità che il DS Accardi sta cercando di affidare al condottiero Fusco. A tal proposito i contatti con due società, una di A e un'altra di B, sono in fase di risoluzione per l'arrivo di altri quattro calciatori che saranno messi a disposizione già a partire da domenica, quando la Comitiva Azzurra partirà alla volta di Chianciano Terme, sede scelta per il romitaggio estivo. Sempre in tema di acquisti, in fase di arrivo la trattativa con il Napoli per il presido di Luigi Liguori, attaccante esterno ambidestro lo scorso anno diviso tra Cosenza e Fidelisandria. Intanto ieri sistemata anche la pratica Cesaretti, con un leggero adeguamento al contratto del forte attaccante toscano. Da stamattina invece la squadra è a Cava dei Tirreni, dove ha iniziato a fare i prelievi prima delle visite mediche, previste per la giornata di domani presso il centro cardiologico De Martino. Chiusura una notizia di pala a mano, dinamato il calendario del massimo campionato femminile, campionato che scatterà il 15 settembre e chiusura il 18 maggio, formula diversa rispetto agli ultimi anni. Dopo le gare di andata e di ritorno si svolgerà la pool playoff fase d'orologio per le prime sei classificate. eliminate le semifinali scudetto, le prime due della seconda fase accederanno direttamente alla finalissima final letter di Coppa Italia, in programma dal primo al 3 febbraio, con la qualificazione delle prime sette squadre della classifica al girone d'andata. La IOMI saranno campione d'Italia in carica, ne vediamo appunto le immagini, scatterà, comincerà la sua stagione prossimo 6 agosto con un richiamo di preparazione atletica presso il medico donato Bestuti in piazza Casalbole. Ed è tutto per questa edizione del TGOG News, grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime, arrivederci. Puoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand. Grazie per aver guardato il video.